cari amici buonasera e bentrovati oggi domenica 19 giugno 2022 siamo qui insieme per parlare di mercati finanziari dopo due settimane veramente intense è un periodo nel quale i mercati sono andati in fibrillazione quasi e che le borse soprattutto i mercati azionari hanno subito pesanti perdite legate evidentemente alla paura di ricontinui rialzi dei tassi da parte delle autorità monetarie dei paesi del primo mondo con soprattutto le borse europee americane che hanno perso hanno ceduto di schianto nei confronti di evidentemente questi timori che continuano e persistono peraltro addirittura il mercato del cripto ha visto bitcoin scendere sotto i 18 mila dollari e in generale abbiamo e viviamo una situazione anche sul mercato dei cambi di grande tensione di grande volatilità anche se per ora i termini del dollaro si sono fermati la situazione appare abbastanza interessante sotto ogni profilo e andiamo a vederla nel dettaglio ricorderete che circa due settimane fa la bce giovedì due giovedì fa ha deciso di lasciare i tassi invariati e tutto ha portato a pensare che almeno nel mese di luglio ci possano essere comunque almeno un rialzo e poi altri due tre rialzi verso fine anno però chiaramente il condizionamento che la bce pone sulla questione dei sui tassi e sulla frammentazione di cui ha parlato anche miss lagarde pongono dei seri coesiti anche sull'andamento della moneta unica ricordiamo che l'andamento dei cambi quest'anno è un andamento particolare perché mentre gli anni fino agli anni scorsi le banche centrali o comunque i paesi cercavano in qualche modo per guadagnare quote di mercato di depreciare il proprio tasso di cambio quest'anno e depreciare il tasso di cambio significa importare inflazione un'inflazione che rimane molto forte negli stati uniti in gran bretagna ma anche nella stessa euro zona e tutto questo non fa altro che preoccupare le banche centrali che da un lato negli stati uniti continuano a mantenere un certo ottimismo e voglia di alzare i tassi almeno fino al 3 per cento prima della fine dell'anno mentre sia in gran bretagna che in eurozona prevalgono e prevale un sentiment abbastanza pessimistico sulla questione legata alla congiuntura macroeconomica soprattutto in gran bretagna dove il governatore bailey della bank of ingland ha più volte ribadito la sua preoccupazione relativa alla congiuntura ricordiamo che qualche analista dice che l'anno prossimo la gran bretagna sarà il paese tra i diciamo i 20 paesi più importanti all'interno del proprio del g20 che avrà la crescita inferiore è un'inflazione comunque intorno al 9,1 per cento costringere a bank of ingland evidentemente a rialzare i tassi ma andiamo con ordine cerchiamo di capire cosa è successo questa settimana che è stata la settimana che ci ha portato ricorderete all'itf e che ha visto protagonista soprattutto la federal reserve mercoledì con un rialzo dei tassi di 75 basis point che è stato un assolutamente un rialzo non previsto o meglio l'ultima settimana si era quasi tutti d'accordo che potesse rialzare dopo i dati sull'inflazione superiore alle attese però certamente ora si pone il quesito legato all'andamento delle borse all'andamento della congiuntura perché un andamento della congiuntura che dovesse ulteriormente peggiorare andrebbe a provocare serie preoccupazioni per quel che riguarda l'andamento dei mercati azionari e i profitti aziendali per tale ragione ascolteremo Powell che questa settimana parlerà in audizione al senato e potrà dirci di più su quelli che saranno eventualmente prossimi rialzi perché anche negli stati uniti i dati cominciano a mostrare delle crepe e l'attenzione che viene rivolta ai dati in questo momento diventa prioritaria perché un'eventuale congiuntura e rallentamento potrebbe portare in recessione anche l'economia più forte del mondo di quella degli Stati Uniti e il Financial Times ha detto che il primo trimestre del 2023 vedrà proprio gli USA in recessione. Lo vedremo, certamente abbiamo visto anche la Bank of England alzare i tassi di 25 basis point giovedì con un recupero della sterlina bene o male abbastanza dovuto dopo gli eccessi ribassisti delle ultime settimane. Poi abbiamo avuto la Bank of England che nella notte tra giovedì e venerdì ha lasciato i tassi invariati addirittura parlando di ampliamento della base monetaria perché come sapete in Giappone l'inflazione è al 2,5% quindi è sotto le attese e non preoccupa la Bank of Japan un'eventuale svalutazione del tasso di cambio che in questo caso può scendere senza creare ulteriori, senza creare ulteriori inflazioni o meglio potendo anche creare ulteriori inflazioni ma sappiamo che i prezzi in questo momento in Giappone sono intorno al più 2,5% su base di anno e quindi sono ampiamente diciamo alla portata dei parametri della Bank of Japan stessa. Ma andiamo con ordine e guardiamo quello che è l'andamento di Eurodollaro. L'Eurodollaro cari amici che sembrerebbe poter anche scendere verso questi minimi che abbiamo visto recentemente e non sono esclusi, però l'ultima settimana abbiamo visto la creazione di un minimo crescente, un doppio minimo con un minimo leggermente più alto a 1,0352 che genera la creazione di una qualcosa che potrebbe sembrare una Morningstar, un rounding bottom di lungo periodo che potrebbe portare i prezzi anche eventualmente in area 1,0790, 1,08 anche se sappiamo che il delta tasso comincia a pesare. Perché? Perché sappiamo che i carry trade stanno tornando e se gli americani portassero i tassi al 3% con un'Europa che rimanesse ferma intorno allo 0,75 avremmo un 2,25% che sono circa 250-260p di swap a favore del dollaro e negativi per l'euro. Quindi questo però non vuol dire che il mercato abbia già scontato tutte le notizie negative all'interno dell'Europa e tutte le notizie positive americane e quindi potremmo vedere anche nel caso di rottura e violazione di 1,06 qualche accelerazione verso 1,0780 e 1,0960 che non sono da escludere. Ma ricordiamoci che il mercato rimane tendenzialmente adesso in questa fase un sell on release naturale, cioè tutte le volte che il mercato sale l'euro troverà dei venditori proprio per il delta tasso che comincia a pesare sul tasso di cambio. Andiamo a vedere quello che è il movimento della sterlina, poi vedremo anche i legami con le materie prime. La sterlina ha realizzato un minimo più basso e dopo aver testato 1,2390 sta provando a riscendere e si amminare a 1,2180. Ricordo che la valuta di sua maestà in questo periodo sembra una valuta emergente, bisogna ammetterlo. È una situazione abbastanza complicata per la Gran Bretagna perché se è vero che continuerà a vedere una congiuntura e rallentamento di fronte a un'inflazione che sale e che tira sulla testa, chiaramente la Bank of England si troverà in condizioni difficili. Il governo Johnson ha proposto delle misure e delle riforme per un abbassamento della pressione fiscale, questo è sicuramente un fatto positivo. Il mercato però ha bisogno tecnicamente di superare questo livello a 1,24 e 3,15 per poter andare a attaccare 1,26 e mezzo, 1,27. Altrimenti nel medio e lungo periodo potremmo ancora vedere dei movimenti di ribasso che potrebbero portarci eventualmente anche sui minimo storico, visto che poi non è il minimo storico perché in realtà il minimo storico si vide prima degli anni 2000, ma il minimo degli ultimi 25 anni in area 1,14 e 33 visto con la pandemia nel marzo del 2020. Prima però ci sono dei supporti importanti a 1,19,40 che peraltro sono stati visti e ora vediamo se il mercato comincerà a consolidare. Interessante il movimento del petrolio cari amici perché il petrolio ha dopo aver testato dei massimi sul VTI cash a 126,40, 127 abbiamo visto un ribasso con il mercato che si è fermato a 93 che è il supporto chiave e poi abbiamo attaccato le resistenze nuovamente ma ci siamo fermati prima di 122, quindi 121,5 per il crudo che potrebbero significare nel caso di rottura dell'area di 92 un'inversione di tendenza. Questo massimo inferiore è un buon viatico per sperare in un ridimensionamento, una fase distributiva del petrolio che potrebbe portare poi i prezzi eventualmente sulla media 200 anche in area 60 nel lungo periodo, ma non nel breve sappiamo che sarebbe difficile. Andiamo a vedere quindi il dollar canada che è direttamente legato al petrolio, quindi il dollar canadese che perde di tono e nel caso di rottura di 1,30 e 70 potremmo addirittura andare a vedere 1,34 e questo significerebbe un petrolio che si sgonfia anche in presenza di una domanda in ribasso e a quel punto le banche centrali avrebbero meno interesse a rialzare i tassi e creerebbero le condizioni per una ripartenza anche dei mercati azionari. Cari amici, questo è l'andamento dei principali rapporti di cambio, però andiamo a vedere il dollaro yen prima di concludere e cerchiamo di capire quello che possono essere i movimenti di un dollaro yen che ha rotto i 135, avevamo visto 30-135,20 però non è riuscito a chiudere sopra e quindi è tornato un po' indietro, però la rottura di 135,20 porterebbe i prezzi anche a 148, attenzione quindi a eventuali ulteriori rotture rialziste perché c'è un via libera, il movimento è strutturale, c'è un via libera della BOJ alla svalutazione dello yen, questo è chiaro, però è altrettanto vero che ricorderete che nel 1998, sempre durante la crisi russa e lo scandalo del TCM, qualcuno di voi lo ricorderà, da 148 si scese poi a 102 nel giro di qualche mese e ricordo che da 135 a 111 il mercato ci mise una settimana, quindi attenzione perché se lo yen parte a rialzo violentemente per qualche ragione che andremo a scoprire poi di volta in volta perché in questo momento non ci sono le condizioni, potremmo vedere un ritorno del risk off classico con uno yen che sale, un franco svizzero che sale, un euro che sale contro dollaro perché euro contro dollaro è valuta rifugio e nel caso di borse ulteriormente il ribasso, lo vedremo certamente, rimanete con noi perché questa settimana è molto importante perché abbiamo tutti i dati sui PMI, abbiamo l'inflazione comunque in Gran Bretagna, in Canada, abbiamo le vendite al dettaglio in Gran Bretagna, quindi tutta una situazione, tutta una serie di situazioni che potrebbero spostare i prezzi e dare nuova volatilità al mercato, in un mercato che da un punto di vista tecnico è bellissimo perché è tradabile, il mercato è bilaterale, è impulsivo, quindi offre tutte le condizioni per poter operare nel breve periodo. Rimanete con noi, mettete un like sulla pagina di YouTube degli amici di ActiveTrades, noi siamo sempre qui a vostra disposizione e mi raccomando scriveteci e raccontateci le vostre opinioni e le vostre esperienze sul mercato. Buona settimana e buon trading! Grazie!